In grappa è senza acqua e in aiuto arriva la protezione civile. Era da almeno 10 anni che non accadeva. La siccità delle ultime settimane, unita alle temperature torride della pianura, che hanno spinto molti a scegliere per le loro vacanze e le loro gite fuori porta alla montagna, hanno letteralmente prosciugato le cisterne del Monte Sacro alla Patria. Il caso emblematico è quello di Cima Grappa. Qui la cisterna arriva a contenere ben 2000 metri cubi di acqua pari a 2 milioni di litri. Ebbene, questa torride è stata riuscita a prosciugarla completamente. Quotidianamente, infatti, per il fabbisogno del rifugio, del Sacrario e delle zone militari, vengono consumati 10 metri cubi d'acqua. Per far fronte a quella, che attualmente è una vera e propria emergenza, da oggi è in azione anche la protezione civile di Crespano, che in giornata è riuscita a trasportare in vetta con un'apposita autobotte 70 metri cubi d'acqua. Il necessario, insomma, per sopravvivere una settimana, nell'attesa che, come annunciano i meteorologi, arrivi una perturbazione che permetta di caricare nuovamente la cisterna.